Noi partecipiamo perché le nostre famiglie si uniscono a tutti e questa tragedia ci ha colpito tutti, è stato proprio un colpo al cuore sia a noi che alla città. Sì, avevo due nipoti con i rispettivi mariti, più altri quattro feriti che erano una figlia di una mia nipote con il marito e due bambini che sono in ospedale, come lo so non ce la passa tanto bene, ma comunque sono salvi. Stiamo male comunque, ci dispiace molto, non ci aspettavamo mai che qui a Mondocello c'è una tragedia del genere, in Campania, a Pozzuoli, come siamo male, male male. Questo è un momento che rimaneva nella storia, non ci sono parole, che c'erano delle persone che conoscevano, del rione e terra, sono stati molto riusciti. I diversi erano amici e conoscenti, quindi in una comunità come la nostra ci si conosce quasi tutti, se non proprio tutti. Quindi, per definire questa leggenda non ci sono parole, è una leggenda immagine. Grazie. 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 Grazie.